Ciao raga bentornati sul mio canale youtube finalmente da quanto tempo come sapete oltre alla pochezza dei contenuti sto preparando gli ultimi due esami della mia carriera universitaria si spera diritto internazionale 25 è andato mentre statistica segno della croce settimana prossima speriamo pregate anche voi che sia l'ultimo capitolo di questo mio percorso accademico però oggi domenica 11 luglio ieri ha pensato bene di cacciare fuori un po' di ciccia su fifa 22 il trailer è stato aperto il preorder quindi sappiamo le versioni disponibili e poi sono state anche rilasciate delle piccole chicche di gameplay nelle pitch notes quindi in attesa poi di scoprirle le totali il 21 luglio che commenteremo sia sulla piattaforma viola che qui vorrei andare ad analizzare con voi tutti questi dettagli anche per chiarire magari qualche dubbio che avete sulle varie versioni eccetera eccetera le prenotazioni quindi passiamo subito a guardare rapidamente il trailer che come sapete per me lasciano abbastanza il tempo che trovano però la prima grande novità che ci viene detta è l'impiego del nuovo motore grafico hyper motion ovvero una versione migliorata del motore grafico frostbite che quello presente in fifa che però sarà disponibile solo sulle console next gen quindi sulle versioni di fifa 22 per ps5 e xbox serie x e serie s il gioco fifa 22 uscirà regolarmente anche per ps4 ed xbox ma avrà una versione tra virgolette depotenziata basata solo su frostbite e non su hyper motion quindi si giocherà praticamente a due giochi diversi ecco sotto questo punto di vista nel trailer possiamo vedere diciamo come hanno hanno catturato alcuni movimenti mi sembra che venga dato un po di enfasi a quelli che sono i tocchi di prima quindi i controlli di prima le hanno fatti vedere davvero in maniera preponderante dentro a sto trailer poi vabbè classici riri da fuori roba spettacolare ho visto un paio di skill forse nuove combinate anche ad un elemento di gameplay che vedremo dopo il fatto che mbappé a un certo punto fa un tacco tacco ma che sembra una specie di tacco tacco tunnel direzionale tanto che mbappé va via guarda eccolo qui esatto vedete si butta la palla in avanti come un tunnel ma con il col tacco tacco quindi questa cosa mi ha lasciato un attimo interdetto qui una sorta di tunnel direzionale applicato a reverse elastico però insomma solite cose che poi bisogna vedere se effettivamente risulteranno utili o meno all'interno del gioco quindi questo per quanto riguarda il trailer passando invece al primo argomento centrale del video le prenotazioni prenotazioni che sono aperte da oggi gioco che uscirà il primo ottobre in maniera ufficiale per tutti il 22 uscirà la web app invece e il 27 uscirà il gioco per chi prenota la ultimate edition difatti standard edition che sarà disponibile per ps4 e ps5 e non darà la portabilità quindi se io compro il gioco su ps4 e poi prendo una ps5 dovrò ricomprare il gioco se prendo la standard e inoltre vi dà un giocatore della prima squadra della settimana come bonus un bappé in prestito una carta foot ambassador in prestito quindi tra un bappé alexander arnold son e pulisic e poi c'è un career mode home ground talent una roba insomma per la carriera per avere un giocatore del posto locale cose che ci importano poco per quanto riguarda l'ultimate edition che invece costerà 99 euro quindi prezzo esattamente scusate non ve l'avevo detto 69 euro per la ps4 la versione standard e invece 79 euro la versione standard per ps5 per quanto riguarda invece la versione ultimate che come potete vedere uscirà il 27 darà anche qui un giocatore if bappe in prestito un foot ambassador in prestito e poi questo career mode on ground talent perfetto se prenotate la ultimate edition entro l'undici agosto avrete un giocatore one to watch 4 giorni di early access quindi vuol dire che appunto si potrà giocare dal 27 e non dal primo ottobre il dual entitlement quindi se comprate la ultimate edition per ps4 potete poi giocare anche alla versione ps5 se cambiate console e 4600 fifa points quindi 39 euro e 99 di fifa points quindi in realtà voi la pagate 99 euro ma se fate ea play e la prendete dalla playstation quindi andando sul menu di fifa 21 e facendo click da lì vi porta nello store vi da il 20% di sconto quindi la andate a pagare in realtà 79 e 99 ma con 40 euro di fifa points quindi come se il gioco voi lo pagaste 39 quindi secondo me l'ultimate edition straconviene soprattutto se avete intenzione poi di passare a next gen e vi da una serie di benefit che secondo me sono molto molto interessanti rispetto agli anni passati passando poi invece al gameplay abbiamo appunto nuove dinamiche di gioco la prima è il goalkeeper rewrite quindi hanno toccato i portieri e ci dice che ci sarà un nuovo sistema riguardante i portieri che porta l'intelligenza di questi ad un livello epico quando si tratta di dover difendere la linea di porta sbloccare nuove situazioni nel fermare i tiri delisioni più intelligenti mentre il giocatore si trova tra i pali e in particolare ogni portiere avrà una personalità che replica quelli che sono i differenti stili di gioco dei portieri all'interno del calcio reale quindi sistema di portieri che viene insomma rinnovato e sta cosa un po' mi preoccupa perché solitamente quando toccano i portieri questi diventano estremamente potenti quindi potrebbe significare che poi insomma bisogna veramente entrare in porta per fare per fare gol abbiamo poi true ball physics come ogni anno ci dice che hanno migliorato la fisica del pallone quindi per quanto riguarda la velocità la resistenza all'aria i rimbalzi eccetera eccetera insomma vuol dire che ogni tocco insomma sembrerà vero dicono ma la cosa preoccupante di tutto questo ambaradan è questo explosive sprint che ci dice che una nuova dinamica di gameplay cambia totalmente le situazioni di 1v1 lo sprint esplosivo che cosa fa? permette di poter controllare tramite l'accelerazione quando stai dribblando ma anche difendendo quindi se tu ti trovi di fronte un avversario passivo che poi rilascia questo sprint esplosivo rimane di stucco perché il giocatore ti manda al bar quindi insomma su due piedi mi verrebbe da dire porca miseria un mix tra bridge tunnel direzionale e speed boost con l'l1 un macello un dramma una cosa folle l'unica cosa che mi viene da dire che forse l'hanno bilanciata col fatto che anche il difensore può mettere in pratica sto boost pazzesco però piuttosto che aggiungere le ste cose io magari avrei pensato a toglierle quindi questa roba dell'explosive sprint ho visto che ha triggerato anche un po' anche un po' twitter onestamente mi auguro che effettivamente non sia così sbroccata e non sia così OP all'interno del gioco dice che poi sono state introdotte anche nuove tattiche offensive è possibile settare il team attraverso differenti stili in ogni metà di campo attraverso quelle che sono nuove tattiche offensive che ti danno maggior controllo di come attacchi puoi tenere la palla nella tua metà campo oppure andare direttamente con una manovra veloce nella parte di campo dell'avversario giocare direttamente box to box o creare il tuo stile di gioco unico quindi anche qua onestamente una componente di cpu che aggiunge tattiche quando invece secondo me la soluzione sarebbe quella di toglierle però va bene così insomma e poi sempre da vedere se queste cose workano però le cose nuove solitamente workano sempre ricordatevelo ogni volta per esempio FIFA 19 la crocchetta boom workava quest'anno il tunnel direzionale boom workava quindi quando loro piazzano una cosa nuova nel gioco solitamente sta cosa nuova è sempre devastante quindi prepariamoci prepariamoci passiamo a vedere quello che invece il design delle carte devo dire come al solito è molto carino il design delle carte mi piace parecchio come al solito il grafico di FIFA è sempre l'unico che forse si merita la pagnotta così come è molto carino anche il design delle carte delle carte team of the week che alla fine non è che è cambiato tantissimo c'è giusto questo inserto che abbiamo ritrovato anche sulla carta oro e che credo insomma sia una cosa che loro riporteranno parecchio durante l'anno visto che l'hanno messo in tutte e due le due prime carte che saranno disponibili sul gioco passiamo poi a quelli che invece sono i club iros ovvero queste versioni di carte che non sono delle icon ma sono dei giocatori che per determinati club hanno significato tanto quindi come possiamo vedere i primi ufficialmente rilasciati anche se ci sono già abbastanza conferme su altri giocatori sono quindi qui insomma delle carte che vengono introdotte all'interno del gioco in una nuova versione per la prima volta e quindi una via di mezzo tra delle icon e degli if secondo me avranno una sola versione e se consultiamo questa foto vedete ci sono già delle stats tra le icon confermate dovrebbero esserci anche kafu runei di stefano cordoba dovrebbe essere un altro iros abe di pele l'abbiamo visto totò di natale devastante alexander mostoi che non so chi sia joe cole soskier riken kohler ginola luimberg dovrebbero essere tutte queste carte iros addirittura qua sono indicate anche le statistiche parziali come potete vedere di questi giocatorini qui quindi tante carte nuove tante icon novità con questi iros sarà un fifa non monotematico che darà veramente la possibilità di poter ricreare anche anche particolari insomma situazioni con giocatori del passato e in particolare un'altra news che avevo letto che mi sono dimenticato di salvare è che si diceva che hanno aggiornato anche le rivals e la weekend league non hanno detto come vorrei ecco qua foot 22 ridisegna division rivals e foot champions in maniera tale da poter creare una maniera più accessibile di testare le skill e progressi contro altri giocatori dandoti anche la insomma più strade per creare il tuo club con nuove possibilità di costumizzazione sia dentro al campo che fuori dal campo introducendo i foot iros quindi questo design inoltre le carte foot iros quindi effettivamente sono state toccate sia le rivals che la vl non sappiamo se questo significa meno partite in vl non sappiamo effettivamente cosa significherà però sicuramente qualcosa è stato fatto attendiamo notizie per sapere effettivamente cosa è successo quindi raga questo per quanto riguarda prime news vere che respiriamo di fifa 22 attendiamo fifa le fifa 22 pitch notes più o meno tra una decina di giorni aspettatevi come al solito video commento io vi ringrazio per aver visto tutto il video se siete arrivati fin qui vi ricordo che nella descrizione trovate il link della piattaforma viola io vi auguro una buona giornata raga una buona domenica forze tale e complimenti all'inghilterra per aver vinto l'europeo ciao raga ciao